Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo con Riccardo, mio cugino, e una fan Perché sono al campanello? Lei è mia Devo scriverle in chat, che facciamo? Di solito non faccio quasi mai video con i fan Ne ho fatto, credo, uno Però ne ho fatti Sì, con i fan uno Poi altri ne ho fatti con un'amica Che faccio? Lei è premium Andiamo in piscina Andiamo in piscina Mi ha dato pure il permesso del Mi ha chiusa in casa Mi ha dato il permesso del coinquilino Siamo solo nel tempo No, c'è anche uno che non conosco E vabbè, andiamo Se pareva è qua È qua Dove stiamo andando? In piscina? Ah, là, in piscina Che figata Troppo bello Ma Ma È la prima volta che gioco in questa casa premium Ma è entrato È entrato con la macchina È entrato con la macchina Sere Sere? Sì Poteva essere anche Che usa questa casa Che bellezza Sedersi così Moltissimo mi piace Che domanda è? Ma che domanda stupida è? Ovvio che mi piace È super bella Andiamo a fare un giro? Andiamo a fare un giro? Andiamo Ok Povero E io è rimasto solo E E cosa? E andiamo in macchina No vabbè La macchina vipa lei Certo Lei è vipa La macchina vipa E io che pensavo È bellissima È bellissima Io che pensavo Ora metto io Ora metto la macchina Volevo mettere Quella sportiva Io che volevo mettere Quella Quella sportiva Sopra quella premium rossa Poi le mette la Tesla E io dico Cioè ma perché Mi tengono Queste idee Le mi patterà Un milione di volte Sì vabbè Ma dove andremo Secondo voi? Scrivetemi nei commenti Senza Vederlo Qui vabbè Dove si va Quasi sempre C'è tutto Col telefono Va bene Rimani il lasso Non è a che fare Andiamo al cinema Andiamo al cinema Ok andiamo Cimettina Siamo in Prima fila C'è tempo in prima fila Tutti messi bene E io E' questa così Sare Sì Ma Quella è Mr. Brookhaven Sare dopo Ti porto in un posto Ti porto in un posto Ok 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 Secondo me Mi porta Non lo so dove Del film Sì Sì molto Molto bello Molto bello Molto bello Anche se mi piacerebbe molto Che Mi sentissimo Che è successo? Cioè perché Ha quelle stelle? C'è un bagno? No No Mi scappa No Qui non c'è Ma che vuole Riccardo? Ehm Guardo Cerco pure io E' andata qua No C'è a scuola C'è a scuola No C'è a scuola Nel ristorante Nel ristorante Nel ristorante C'è nel ristorante un bagno Dimmi che sto andando a mare No A mare No Mi ha levato tutto Ero piena di cose Ah vero Sono uscita perché mi ha spuntato di sconnesso Prima Ma dove stiamo andando? Che sta facendo? No Questo Non l'ho capito Siamo ferme Ops Vabbè la metto pure io Una moto Io metto la moto Chi l'ha messa? Sarà una CT46 Al mare? Al mare Ok Ma? Ragazzi E' bloccato Sto arrivando Sto arrivando Teletrasportiamoci Teletrasportiamo Teletrasportati Teletrasportati Alla casa Del mare Teletrasportati Alla casa del mare